Ciao Vets, sono un po' in ritardo però finalmente questo è il video delle serie Ti dirò che facendo l'appello io pensavo di aver guardato più cose Tutto sommato, cioè questo è un periodo, come forse ho già detto nell'ultimo video delle serie Dove ci sta, forse più del normale, di bingiare cose Però è anche vero che noi come gruppo, insomma, ci siamo popolati le serate di appuntamenti Abbiamo tutte le visioni collettive del gruppo di visione, la chat è dedicata, ci sono i link nel box e quant'altro Volevo aspettare quasi quasi di parlare veramente di sei serie Perché mi piace usare i multipli di tre E alla fine sì, ne nominerò sei, però una è solo la prima puntata E forse posso partire da lì con il nuovo Penny Dreadful Allora, come forse avevo detto nella Weakness, io non lo volevo Cioè era una di quelle cose che è stata annunciata e la mia risposta era stata Thanks, I hate it Perché no? Perché Penny Dreadful secondo me era perfetto Perché Eva Green era in un ruolo meraviglioso Tutto il cast in realtà a me aveva fatto impazzire il setting, i colori, tutto Era perfetto Ora, se il finale è vero che mi ha un po' spezzato il cuore Era altre sì, secondo me, ben dosato, ben fatto, appropriato, basta Quindi l'idea che ne facessero ancora mi sembrava un po' un'eresia Naturalmente adesso, col senno del poi, si è rivelato, quantomeno al primo episodio Una scelta più antologica, cioè hanno messo un po' come cappello, come umbrello, anzi Penny Dreadful, però il punto è City of Angels Per cui siamo a Los Angeles, alla fine degli anni 30 Con una città divisa, tensioni familiari, razziali, di autorità Per cui pro e contro le forze dell'ordine Ci sono personaggi divisi proprio su questi campi, no? E forze soprannaturali, in particolare due sorelle Una decisamente negativa, per quello che posso dire Cioè proprio caos, distruzione e morte L'altra non necessariamente o univocamente positiva Che è Santa Muerte Il heritage, il peso della storia messicana È infuso in modo così... Vivo, mi sembra Mi ha ricordato, non l'ho ancora finita Ma mi ha ricordato la seconda stagione, diciamo, di The Terror Che era tutta virata su le superstizioni Le credenze, il folklore giapponese E anche lì The Terror era stato usato a modo di seconda stagione Ma secondo me, diciamo impropriamente Però senza connotato negativo Cioè non c'entrava veramente con la prima stagione Cioè la storia della Erebor e della Terror In particolare una cosa che mi ha fatto impazzire del primo episodio È il fatto che ci siano dei momenti In cui ci sono tanti personaggi sulla scena E se guardi tutte le espressioni È una cosa che a me diverte tanto Quando ci sono delle scene di folla Sono tutte coerenti E funziona tutto a darti l'impressione Di star veramente assistendo A qualcosa che coinvolge tante persone Il primo episodio arriva a un climax drammatico Che ti ha preparato Cioè lo vedi arrivare da lontano E l'unico difetto che per adesso mi sento Di ascrivere a tutta la faccenda È che c'è tantissimo L'ho già detto anche questo Secondo me, slow motion Però l'ho chiamato stop motion Cioè in alcuni momenti dici Non serviva La prima scena Che lo usa Ha un effetto veramente epico Dopo diventa un po' Allo stesso effetto ripetuto E quindi forse necessariamente Perde un po' di intensità Però le interpretazioni mi sono piaciute tutte tantissimo E non vedo l'ora di vedere il secondo episodio Cosa che conto di fare stasera Beh vedi allora così effettivamente riesco a nominarne sei Perché secondo me abbiamo un precedente di un binge XXL Da sei invece che da tre Bene L'altra serie che non ho bingiato Perché ha un ritmo di uscita per me incomprensibile È anche qua già citata Defending Jacob È su Apple TV Allora i tre primi episodi I primi tre episodi Sono usciti tutti il 24 aprile Gli altri cinque Escono uno a settimana Quindi il prossimo esce Se non mi sbaglio domani Cioè oggi per te che guardi E io quindi ho visto solo i primi quattro È bella eh Cioè il mio parere non è cambiato Dall'ultima volta che ne abbiamo parlato Però ho paura che allunghino un po' il brodo Specialmente perché Ci sono due timelines Fondamentalmente Quella in cui vedi che cosa sia successo Quando si è stato trovato morto Il compagno di scuola di Jacob Che è il figlio di Chris Evans E Lady Mary di Downton Abbey Jacob viene accusato E finisce Quanto meno insomma nell'ingranaggio della giustizia Ecco mettiamola così E un altro momento in cui Chris Evans Viene interrogato da Mad Sweeney I due si sono presi a cornate fin dall'inizio Cioè quando li vedi Sono colleghi Ma è primo evidente Che forse si detestano a livello personale Ma sicuramente a livello professionale Sono in gara l'uno con l'altro Quindi quando vedi le scene in cui La bilancia del potere è ribaltata È ovvio che ti porta avanti La curiosità di capire Perché Chris Evans si è finito lì Ci sono anche dei tempi verbali Che Chris Evans usa Che mi Mi mettono un po' l'ansia Per cui insomma Uno è forzatamente curioso Di sapere cosa sia successo Alla fine È solo l'ennesima incarnazione Di un Who done it Cioè chi è stato Di trovare effettivamente il colpevole È una serie che chiaramente Si diverte a sparpagliare Sospetti Per il pubblico Un po' a destra e a manca Una cosa che mi è sembrata un po' Emerge un segreto Mi sembra alla fine del terzo episodio Tra marito e moglie Che stanno insieme da Boh 15 anni Ora io non escludo Che segreti Esistano Tra coppie Però questo è un signor segreto Per una coppia Che fino a quel punto È stata disegnata Come molto positiva Cioè con una luce Di condivisione Insomma di Comunione Di due sposi Mi è sembrato un po' Melodrammatica Deve essere anche Perché ho un po' Le antenne dritte In fatto di melodramma Per via delle due cose clou Di cui voglio parlare In questo video Allora un'altra serie Che mi sono goduta un sacco È stata Doom Patrol È dell'universo DC Ora qua ci si divide Se esista effettivamente Un panorama cinematografico DC degno di questo nome Contro Quel titano Non è la parola giusta Dell'MCU È vero che la produzione Su schermo In qualunque scala Della DC Non è uniforme Forse Quanto quella Marvel Doom Patrol È un gruppo di freaks Che ha avuto Una storia editoriale Bislacca Sono apparsi nel 63 Cancellati varie volte Tenuti un po' In vita Forse mi viene da dire Dai Teen Titans Certo Doom Patrol È degno di essere numerato Nei fumetti da leggere Soprattutto perché a un certo momento È finito nelle mani di Grant Morrison Grant Morrison Cui si deve Forse primo fra tutti Batman Ma credo che abbia lavorato Forse a 360 Su tutti i grandi titoli Di tutte le grandi testate Ha fatto anche Happy Per quanto riguarda Trasposizioni televisive E insieme a cose tipo Non so Sandman Hellblazer Swamp Thing È stato responsabile Della nascita della Vertigo Quindi insomma Non è un titolo proprio Necessariamente di nicchia Qui trovano un'incarnazione Secondo me Eccellente E portata avanti Da il cast Veramente considerevole Su tutti Per ragioni effettive C'è Alan Tudyk Che fa Mr. Nobody Tu dirai che Pal È il solito gruppo di supereroi Sì Però qui c'è Il Per carità Anche questo già visto Però comunque Il gruppo di Misfits Cioè di quelli che Non sono effettivamente I supereroi Biondi occhi azzurri Con la mandibola squadrata Che ci taglia il pane Questi sono veramente Dei disadattati Con poteri Discutibili La cui utilità Soprattutto È discutibile Sui quali Hanno Marginale controllo Molto spesso Che quindi Devono imparare Non soltanto A lavorare insieme Ma a amare se stessi A capire Il proprio posto Nel mondo No E secondo me Una cosa Che la serie Riesce a fare È di bilanciare Questo senso Di assoluto Surreale Ma surreale I momenti più alti Di Douglas Adams Con dei punch emotivi Per cui Quando ci siano Questi passaggi Per un attimo Ti dà quasi Un effetto di vertigine Cioè per il resto Ti ripeto Gli asini Se l'hai visto Capirai Sono un po' Il minore dei problemi Un difetto forse Che posso sforzarmi Di trovare È che Secondo me Ci sono degli episodi In cui vogliono Far succedere Tante cose E quindi c'è quasi Una collezione Di scene Che sono ovviamente Collegate Perché la trama c'è Però Questo filo Che collega Tutte le scene A volte è un po' esile E ti sembra di vedere Questi Tanti siparietti Di tanti personaggi Favolosi Che però Non necessariamente Lavorano perfettamente Insieme Soprattutto nel finale Secondo me Questo emerge Cioè per dire Ci sono delle scelte Che alcuni personaggi Fanno Che altrove Io penso Avrebbero avuto Più spazio Per svilupparsi Invece qui Magari hanno una frase Detta da qualche Di un altro Che si trasforma Immediatamente In un'azione Non lo so Sembra quasi Un montaggio Un po' Sincopato Ciò detto Io i personaggi Li adoro Tutti Gli interpreti Anche Brandon Fraser È uno di quelli A cui io voglio bene E che Quando nominato Visto che non salta fuori Spesso Mi viene sempre il dubbio Ma non è fede Che Non lo so È stato oggetto Di uno scandalo Tremendo E tu non lo sai E io spero di no Perché Brandon Fraser È un altro di quelli Che dovesse macchiarsi La reputazione Io soffrirei un po' I personaggi base Quindi includono Appunto Brandon Fraser Che fa Cliff Matt Bomer Che fa Larry Che era un pilota Aeronautico Però non un pilota Di macchine Come Cliff È stato sommerso Di radiazioni E quindi adesso Può dividere da sé Questa Forma anima Radiattiva E che può fare Tutte le cose Da spirito Quindi Vola Causa esplosioni Poi c'è April Bowlby Spero che si dica così Il suo cognome Io già le volevo bene In Drop Dead Diva E qui fa Rita Che era un'attrice A cui è successa Una cosa Per cui diventa Elasti Girl Non pensare a The Incredibles Però C'è un discorso Di body horror Molto più viscerale In Doom Patrol Se sei molto schifiltosa Non so Poi c'è Diane Guerrero Di Orange is the New Black Che fa Crazy Jane Che in pratica È Legion Perché ha 64 personalità Multiple E c'è una scena Tra l'altro In cui No non te lo posso dire Quella verdognala Nel prato Sempre quelle cose vaghe Per chi l'ha già vista A me non risulta Che nessuna incarnazione Del fumetto Avesse effettivamente Fatto parte Di Doom Patrol Però c'è anche Cyborg Vabbè Il bravo Victor A cui è successo A una cosa diversa Secondo delle varie Continuities Però che il padre Ha comunque Alla fine della fiera Trasformato in un cyborg Fa parte dei Teen Titans E dopo i New 52 È uno dei membri fondatori Della Justice League Secondo me La cosa migliore Del fatto che ci sia Victor Stone È il fatto che Di conseguenza Ci sia suo padre Silas Perché ci sono Dei momenti Di dialogo Che ti danno Molta soddisfazione Quando si entri Nel discorso Pance emotivo Di qui sopra I cattivi Di Doom Patrol Sono surreali Quanto Doom Patrol Per conoscerli Di nuovo Io ti consiglio Di leggere I volumi Di Grant Morrison Però anche qui Anche quando siano Solo un accenno Tipo il gorilla Super intelligente Sono proprio gustosi Perché secondo me Se non sai Di cosa si stia parlando Sono solo L'uscita stramba Che vabbè Si mescola un po' Nel mucchio Se invece sai Spero che non si sia sentito Il grugnito Della mia pancia Perché ho fame Dicevo Se invece sai Di chi si stia parlando Sono degli occhiolini Ben fatti Ben proporzionati In generale L'ho trovata Appunto un po' Diseguale Però comunque Godibile Ti tiene lì Con un livello Di metafiction Veramente pregevole Cioè i momenti Nel white space Specialmente Se al centro E magari da solo C'è Alan Tudyk Sono una gioia Il finale Dà soddisfazione Meno male Che hanno fatto la seconda Cioè da un lato Penso che stia in piedi da sola Però sono contenta Che l'abbiano rinnovato Ma sono un idiota Così te ne nomino 7 C'è anche Tales from the Loop Che effettivamente ho finito Allora Quando l'ho nominato Nella Weakness Uno dei commenti Era Vedrai Fede Che questo senso Di Doom and gloom No Di Discorso cupo Di momenti In cui la vita È semplicemente ingiusta Con gli ultimi episodi Si riprende un po' Io non so se non ho capito Però non l'ho trovato Poi così consolata Allora Ho scoperto che È più o meno tratto Da un libro Cioè da quello che ho capito È Una serie di illustrazioni Foto Collage Non lo so L'ho messo nella wishlist Su Amazon Però per adesso Non l'ho comprato Perché se posso evitare Di ordinare cose Ecco lo evito Comunque sono episodi Che fino a un certo punto Ti sembrano effettivamente Collegati soltanto Dal posto Che è un panorama Nordico Anni 70-80 Sopra questa struttura Dentro cui C'è il loop Cioè in qualche modo Magari è anche superato Da qualcosa di più Avvenieristico ancora Che adesso è lì Abbandonato in un campo Ad arrugginire Le inquadrature sono quasi tutte Veramente pittoriche Io adoro quelle Che sono perfettamente regolari E quasi immobili E immagino siano i momenti In cui la serie Paga i propri debiti All'ispirazione di più In modo più chiaro magari Coll Che è un nanino Che incontriamo fin dal primo episodio Però non c'è in tutti È sicuramente il personaggio Che mi ha coinvolto di più Ma forse anche perché è quello Le cui vicende approfondiamo di più E intorno al quale Si muovono più cose Certo Questo robot Ti spezzerà il cuore Come credo nessun altro robot Al mondo abbia mai fatto E guarda che di robot spacca cuore Ne abbiamo avuti tanti Negli anni Cioè da cortocircuito in voi A me quando fai un robottino Con gli occhi tondi Già sono fottuta Ma questo è una roba micidiale E la vedi arrivare Vabbè È veramente molto atmosferico Molto scenico Di conseguenza a volte molto lento Il mio episodio preferito è sicuramente Credo il 7 Però aspetta che controllo Sì è il 7 Qui avrei voluto che la storia facesse un po' un salto in più Però a quel punto avevo capito più o meno come funziona Quindi non sognavo davvero che qualcuno prendesse quella decisione Chiave Cioè io volevo che avvenisse una sorta di adozione Eh? Lotto Vabbè Ripeto mi ha fatto il cuore in pezzetti piccolissimi Ha spiegato due tre cose in più Non una di più Non una di meno L'ho trovato meraviglioso È veramente un'opera d'arte Quindi in quanto tale A volte è un po' ermetico Però secondo me vale la pena di Infilarcisi dentro A proposito di ne vale la pena Quando era uscita la notizia della serie Di What We Do In The Shadows Ero contenta però dall'altra parte mi dicevo Guarda che il film è così bello Il film del 2014 che è quello tramite cui Io ho scoperto Taika Waititi Nonostante io abbia poi scoperto dopo che aveva già diretto Cinque episodi di The Inbetweeners La prima cosa che devi sapere della serie Se per caso non hai ancora ceduto È che è un'espansione all'universo del film Non un remake E questa è stata la scelta migliore in assoluto Perché comunque è un approccio È un mockumentary Sai i documentari finti Comedy horror Che parla di vampiri Sì però Non solo si prende gioco dei luoghi comuni Li gira Li trasforma Mette i vampiri Non tanto nel ruolo di Predatori inarrestabili Quanto di creature Con tutto un particolare set Di rischi Minacce In più il cast di personaggi Sembra tutto composto da individui Chi più chi meno Che non sono come dire La matita più affilata nel cassetto Cioè sono tutti un po' degli idioti In modo diverso Per cui nell'incarnazione della serie Abbiamo i quattro vampiri base Tutti diversi naturalmente E il loro letale famiglio Che si chiama Guillermo Qui c'è di nuovo L'approccio super meta Alla Doom Patrol Però hanno ancora meno bisogno Di far Come dire Fatica a integrarlo Perché ufficialmente C'è una troupe Che riprende sti vampiri Lì Per farne un documentario E questo Di solito genera Comicità e ilarità Senza fine Quando c'è stato il finale Della prima stagione Ci sono stati una marea Di cameos Uno meglio dell'altro Non soltanto cameos In generale Ma anche rispetto Al film Gli occhiolini A chiunque altro Abbia mai interpretato Un vampiro Presente o meno Nel consiglio È veramente una gioia Io mi sono divertita Da impazzire Questa seconda stagione Sta cominciando Con ottime premesse Anche perché Nell'episodio Della prossima settimana Che si chiamerà On the run C'è Mark Hamill E oggi Se non mi sbaglio Sono uscite le prime immagini Non vedo l'ora La serie è fatta Da Jermaine Clement Non so se dico bene Il suo nome Per me è Oliver Da Legion Anche se ogni tanto Faccio fatica A mettere insieme Tutti i suoi ruoli Perché quando faceva Vladislav Nel film Era tutta un'altra cosa Comunque Legion Tra l'altro A questo punto È la seconda volta Che la nomino In questo video Se non l'hai mai vista Te la consiglio È un trip Pazzesco È finita Conclusa Non oso immaginare Cosa possa essere Una dose massiccia Di Legion Nel senso che Deve essere simile Non lo so A degli LSD Però se non l'hai mai vista Te la consiglio Lo stesso Allora Questo l'ho detto L'ho detto L'ho detto Finalmente Arrivo ai due punti clou Si tratta di due Adattamenti di libri Uno era sicuramente Passato in un Netflix L'altro Avevo scoperto Della serie in arrivo Solo al libro finito E credo Parlerò prima Di Normal People Normal People È il secondo libro Di Sally Rooney Avevamo letto Il primo Secondo me Conversations with Friends In un GDL E mi aveva Innervosito Quando ho aperto Il secondo Mi aspettavo Un po' La stessa cosa Eppure c'è qualcosa Io ti giuro Non sono ancora riuscita A capire Quale sia il punto Però Normal People A me ha spezzato il cuore In tanti momenti Di cosa parla? Se te lo riassumo È una palla sovrumana È la storia di questi due Che crescono Nello stesso paesino Sligo Nell'ovest Dell'Irlanda Vanno a scuola insieme Non potrebbero essere Più diversi A livello di circoli Di amici Di classe Nella società Condizione familiare Eppure per qualche ragione Finiscono l'uno Nell'orbita dell'altra E si inseguono un po' Lungo gli anni Mentre crescono Mentre finisce La scuola superiore Vanno al college E oltre Allora Da un lato Già riassunto Così dici Mi sembra un po' One day No Però È quella stessa vena lì È quel senso Irresistibile Di due cose Uno Quando non riesci Non riesci a smettere Di sentirti legato A qualcuno E La potenza Del primo grande amore Cioè quella cosa Che veramente Ti trasforma Probabilmente No E I cui effetti Ti cambiano un po' Come persona Come il libro Anche la serie È dei momenti In cui Ti viene un po' Allate alle ginocchia Ti viene il dubbio Che sia tutta una Sopopera Post adolescenziale Super hipster Dove tutti Non fanno altro Che guardarsi l'ombelico Come si dice Il navel gazing Egocentrico E autoriferito E dici Boh ma non vuol dire niente Alla fine E poi ti stupisce Perché ogni tanto Invece magari Arriva un lampo Che dice qualcosa Di più alto Non so se sono solo io In realtà Vivermela così Però è Conflittuale Il mio rapporto Con normal people In entrambe le sue Incarnazioni Il cast Sulla carta Non mi aveva convinto Più di tanto Nel senso che I miei Marianne e Connell Erano diversi Però questi due hanno Allora intanto Una chemistry Spaventosa E poi sono proprio bravi A dare l'idea Quando si guardano Di non vedere nient'altro E visto che ci sono Tanti momenti In cui Marianne e Connell Non sono in grado Di esprimere Come stiano Specialmente L'un l'altra Era fondamentale Che la azzeccassero Ecco Un'altra Grossa Non un'altra Forse è l'unica Grossa differenza È che Tanto nel libro Succedeva nella testa Dell'uno e dell'altra Qui hanno trasformato Dei pensieri In dialogo Il che Allora Da un lato funziona Perché ti fa sentire In una trasposizione Molto fedele Dall'altra Di nuovo Questi erano due personaggi Che non sono capaci Di parlare E qui si parlano Di cose che altrove Nel libro Avevano solo osato pensare Non me lo ricordo Proprio frase Per frase Però non ho notato cose Impreviste Cioè non ho notato Nessuna scena In cui mi son detta Aspetta ma questo succede Magari ci sono dei dettagli Che sono molto espansi E il finale Allora Mi sembra che vengano dette Se non letteralmente Le stesse cose Però il feel Secondo me è tutto diverso Anche qua Non faccio spoiler Però è importante Se non hai letto Normal people Che tu sappia Che nel libro Nella serie Ha effettivamente Una fine Cioè è disegnato Per essere aperto È disegnato Per essere sospeso È disegnato Per essere una trottola Di Inception Quindi qualunque cosa Succeda dopo La devi evincere tu E come funzionano Sempre storie Di questo genere Probabilmente Quello che interpreti Dice molto più di te Che della storia Io lo so Che è realistico Va bene Però Non è un finale Che apprezzo Né a livello Proprio di narrativa Cioè in generale Non sono una gran fan Dei finali aperti Né per la serie Certo a quel punto È difficile Nel senso che La trappola melodramma È sempre dietro l'angolo Ed è una cosa In cui Guarda che collegamento Secondo me Little Fire is Everywhere Cade Completamente Io non capisco Come Questa serie Sia venuta così Little Fire is Everywhere Fammi pensare Se ho altre cose da dire Su Normal People Prima Questo si lo voglio dire Anche questo Dei momenti Molto atmosferici Con La luce Molto curata Ci sono dei momenti In cui i primi piani Sono talmente estremi Che non ci stanno Le facce Cioè li vedi qua vicino E ci sono stati Dei momenti In cui riuscivo Ad astrarmi E a dire Perché questo Mi dava così fastidio In altri posti Tipo Animali Fantastici E qui no Perché qui Hai veramente La sensazione Di vedere sta gente Più che da vicino Quindi Tutto sommato Non li ho trovati A sproposito Poi sono molto estetici C'è la sfumata Ben studiata Ecco Però Di nuovo Io non riesco a decidermi Se sia Paraculo O Autentico Comunque Little Fire is Everywhere Questo era difficile da adattare Forse bisognava saperlo In partenza Perché Se In Normal People Tante cose succedono Nella testa dei protagonisti Però In qualche modo Come sopravvivono All'aria Pronunciate Il punto Secondo me Che rendeva il romanzo Irresistibile Erano le cose non dette Le regole non scritte Le cose subdole I ragionamenti Che i personaggi Non hanno il coraggio Di ammettersi Ma che tu Vedendo quello che fanno Sai Stanno veramente pensando La serie decide Di sbraccare Tantissimo Secondo me E guarda Le interpretazioni Qua secondo me Sono favolose Ci sono Kerry Washington E Reese Witherspoon E hanno entrambe Dei momenti Da brevido Eppure Non lo so A me non ha soddisfatto Quasi per niente Allora La storia è quella Di una madre single Che si chiama Mia Che arriva in questo Quartiere Dove c'è un In pratica Un volantino Con tutte le regole Incluso Che non si può Non si può mettere fuori Il pattume Perché rovina L'aria delle strade Mia e Pearl Sono una squadra Madre e figlia Si muovono Continuamente Sono proprio Un'unità Si trovano Vicini Ai Richardson Che invece Sono la famiglia Mulino bianco Con Reese Witherspoon Che fa la solita Madre e moglie Type A Con le perle I capelli perfetti Si pesa ogni mattina E controlla Se ci siano Delle oscillazioni Di grammo È sposata con Pacey E hanno quattro figli Pearl Che è la figlia Di Mia È interessante È diversa Dalla vita Che i quattro Richardson Hanno fatto Fino a quel momento Un po' Quasi tutti Per ragioni diverse Si avvicinano All'orbita Di Mia E di Pearl La serie Comincia con la fine Ma anche il libro Cominciava con la fine Con la casa Dei Richardson Ridotta a un Mucchietto di cenere E braci E poi si torna Indietro di X mesi Allora qua Le differenze Con il libro Sono secondo me Tante e numerose Di nuovo Io non lo so A memoria E non l'ho letto Di recente Però Ci sono tanti momenti In cui Specie a coppie I personaggi Finiscono in queste Risse verbali E non solo Veramente Violente Non succedeva quasi Niente di questo genere Nel libro E mi viene il dubbio Che la potenza Fosse lì Però Mi viene anche il dubbio Che la ragione Per cui Ci sono stati Tutti questi cambiamenti Sia Fatto in buona fede Cioè Una delle cose Che cambia È che A tutti i personaggi Viene dato Un livello Di problema In più In particolare Per esempio L'ultima nata Di casa Richardson Che non è una bambina È comunque un adolescente Però è la più piccola Ha un livello Di angoscia adolescenziale Con un livello In più Con il disturbo Che le procura L'eteronormativity E il fatto che Non riesca a parlare Con sua madre Ecco Nel libro Se era così Non era così Esplicito Il discorso Della divisione In classi Della società È esacerbata Da una discussione Sul razzismo Specialmente Quello fatto O ipocrita O inconsapevole Dopotutto È ambientato Negli anni 90 E quindi Una delle frasi Che torna È Io non guardo Il colore della pelle Non vedo Il colore della pelle C'è anche il momento Sono dal tonica All'epoca Presumibilmente C'era un sacco di gente Che Forse da un lato Faceva finta Ma dall'altra Pensava che Fosse una cosa buona Dire Non vedo il colore Della pelle Che fare proprie Che fare proprie Delle esperienze Delle esperienze Di abuso Dato dal colore Della pelle Non fosse poi Così tanto Un problema Quindi se da un lato Sono d'accordo Perché questo Secondo me Aggiunge un livello Di discorso Importante E fatto bene È anche vero Che ne vengono Aggiunti tanti E quindi Questo Viene Un po' diluito Il messaggio Alla fine Sia del libro Che della serie Mi sembra Un po' lo stesso E cioè Tutti quanti Più o meno Coscientemente Ci costruiamo Una vita ideale In mente Dei confini Delle gabbie E quant'altro E poi Sia la serie Che il libro Fanno le loro I loro ragionamenti Su questo concetto C'è un Casus belli Fondamentale Nel libro Che nella serie Sembra quasi Una side quest O quantomeno Una trama secondaria Invece Mi sembrava Che nel libro Fosse un po' più centrale La vicenda di Bibi In generale Di nuovo Le interpretazioni Sono magnifiche Ci sono dei momenti Da pelle d'oca Delle battute Sintetiche D'impatto Taglienti Che lo senti Che dicono la verità E poi In mezzo Del melodrama Da Non dico Dawson's Creek Forse per la presenza Di Paisy Però quasi Forse avrei voluto Che fosse tutto Più Compatto E sì Più aggressivo Reese Witherspoon Specialmente nel finale Ha un momento Di trasfigurazione Io recitare così Non l'avevo mai vista Fantastica Però Avendoli visti Uno dopo l'altro Dove Normal People Sembra veramente Una traduzione Di un libro Che sulla carta Io avrei detto È intraducibile E invece Little Fires Everywhere Mi ha un po' Delusa Altri micro aggiornamenti Includono il fatto Ho visto il primo episodio Di Hollywood Ho visto solo il primo Perché sono ancora Molto scettica Dopo le numerose Ustioni ricevute Da Ryan Murphy Però c'è uno Dei protagonisti Di The Politician Che personalmente Ho adorato Primo episodio Mi è sembrato interessante Non oserò Sbilanciarmi Oltre questo Il setting È molto Molto affascinante Nel senso che Sembra Un trattamento Particolare Molto estetico Come sempre Della Hollywood Dei tempi d'oro Insomma Un po' La La Land All'epoca Domani Quindi oggi Per te Esce la seconda stagione Di Dead to Me Secondo me La prima Fu una binge accidentale Io l'ho adorata Dead to Me È la storia Di queste due donne Che hanno subito Traumi Lutti Ognuna a modo suo E si ritrovano In un gruppo Di autoaiuto Nessuna sta veramente Dicendo tutta la verità Però diventano amiche Al di là di questa Zona d'ombra Che tengono l'una dall'altra E naturalmente Più si avvicinano Più i rispettivi segreti Diventano un problema Diventano il convitato Di pietra È uscito anche Un nuovo episodio Di Rick e Morti Che ancora non ho visto Sto andando avanti Con la seconda stagione Di Dark A questo punto Secondo me Oddio Non so se fare un video Solo sulla seconda stagione Di Dark Forse a questo punto Aspettiamo Quando siamo Sulla soglia Della terza Non lo so E nonostante ieri Noi si sia riguardato Insieme Watchmen Io ancora non ho guardato La serie Credo sia Uno di quei casi Di sordità selettiva Cioè ho paura Che non mi piaccia E quindi sto continuando A posticipare Il momento Fammi sapere Se l'hai vista Cosa ne hai pensato Se hai letto il fumetto O no Se hai visto il film O no Se ti è sembrata Soddisfacente Qui c'è tutta un'altra lista Di cose Che voglio iniziare A vedere E che penso Siano visibili Sul mio profilo Di TV Time Che come sempre È la piattaforma Che uso Come calendario E per tenere d'occhio A che episodio Sono di cosa Per cui ogni tanto La apro tipo menu La pagina Di TV Time Di cosa mi va Di guardare Stasera Sembro Sai Sono lì E posso interessarla Una puntata di Bene Spero che magari Questo video Faccia un po' l'eccezione Non sia lungo eterno Ne dubito Su Instagram Cerco sempre Di fare le stories Quando abbiamo Una visione condivisa La sera stessa Cerco di avere Un anticipo Di circa un'ora Due Perché penso Così magari Hai tempo di organizzarti Se vuoi partecipare La chat è dedicata Di nuovo C'è il link nel box Ma ci sono anche Tutti gli altri link Se segui quello Che si chiama Prisma Network Poi ci sono gli spin off Per cui ci sono chat Un po' per tutto Inclusa L'ultima nata È quella dedicata Al GDL Il che è Paradossale Visto che credo Che il GDL sia stata Se non la nostra Prima attività Di community Quasi Comunque Adesso ha anche lui La sua chat Su Telegram Stiamo leggendo Dance 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 Quindi se hai voglia Di chiacchierare Di come stia andando C'è il link Anche per quella E basta Come sempre Grazie mille Se hai avuto Se hai avuto la pazienza Di arrivare fin qua Ti abbraccio E se ti va Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao